Ciao a tutti, bentrovati e benvenuti in questo speciale natalizio, non so se sarà uno speciale di natalizio in quante parti, forse una o due, non so quanto è lungo questo minigioco The Baby in Yellow, il bambino in giallo, da quello che so è un giochino che sta andando molto forte sull'App Store e il bambino è posseduto Andiamo, vediamo cosa si fa, io ho paura Sì, perché dovrebbe essere un gioco di paura, comunque, notte 1, il sitter, Baby sitter, è tempo di andare a letto Il bambino, è questo ciò che pensi? Bambino in giallo, atto 1, scena 2 Ah, ok, va bene Ok, oh oh, yeah Che texture, mamma mia Turn off the light, ok Ah, devo un attimino prendere mano con quello che sto vedendo Ok, dunque, ho visto un po' il posto e ci sono... Ah, ma io ho i comandi di qua Ah, ok, ok Quindi, premi F1 per aiuto? Ah, per muoverti Crouch Ma quindi devo anche abbassarmi Perché devo abbassarmi? Per fare bubùsette te? Non sai dove guardare Mamma mia, gli occhi, avete visto gli occhi? Guardate gli occhi, eh Wow Fa paura questo bambino Ciao Che begli occhioni gialli che hai Marroncini Dunque, che devo fare? Dai da mangiare al bambino Prendi la bottiglia dal frigorifero La bottiglia Ma non possiamo darti qualche spesia Non lo so Ok Frigo, mamma mia Fornitissimo Ah, si lancia pure Ok Ma non dobbiamo scaldarla qui sopra? No Non si scalda Così Fredda proprio Senti Mangia Ok Che è successo? Vai a cambiare bambino Mamma mia E che è? Cernoby l'ha fatto Guarda, tutto verde Ma che è? Un ragdoll? Yeah Niente riflesso C'è il riflesso del bambino Ma è molto Fatto male il riflesso Rappi per non fartelo vedere Chissà se Si vede il demonio No Dunque Dobbiamo cambiare bambino No Ho fallito Allora Si può Si può ancora Sistemare Non panichiamo Dunque Prendi il Neppy Il pandolino E Dove sei? Ah Ti sei mosso Velocemente Vedo Che Che Oh Mio Dio Va bene Che sei possenuto Ma iniziamo malissimo Iniziamo Allora Questa è la stanza tua Oh Non so perché Ma pensavo che fosse L'ultima di default Va bene Va bene Cote Come cote Ah La culla Ah ok La culla E Ah Spegni le luci E Ah Di qua Giustamente Di qua La luce E chiudi la porta Ok E vai a guardare la tv Ah Aspetta Aspetta i genitori E guarda un po' di tv Ma Qualcosa del frigo Non c'è nulla in frigo Davvero Non so magari Si è Niente Vabbè Chiudiamo che sennò Spreca la corrente Magari lo tengono lì Tanto per Chill out on the sofa Va bene Un sport di televisione Avete capito Cielo La notte Alle 11 Settle baby Fai calmare il bambino Va bene Va bene Arrivo Arrivo La porta si è aperta da sola Io avrei un po' di paura Sono armato Armato di Mouse Con un filo lungo Avrò fatto un casino Contro il microfono Dove cavolo è Ok Ok Ti sei calmato Porta il bambino Madonna Ste scale però Porta il bambino Di nuovo a letto Va bene Vabbè si Sono io che ce l'appoggio Come un coglione Lasciamo perdere Sono scemo io Eh toh Ok Vuoi guardare la tv Ok 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 Ci addormentiamo Pare di si Ok Notte 2 Il bambino Ridendo Guarda guarda Non è divertente Il babysitter Ti ho detto di non farlo Il bambino in giallo Atto 2 Scena 1 Perché questi atti 2 Scena 1 Atto 1 Scena 2 Prendi la bottiglia dal free Ma il bambino dov'è Ci sono persi il bambino Non è che sta a dormire ancora Abbiamo scelto in camera a dormire Oh Non c'è il bambino Ma cosa Tutte chiuse ancora Queste si Prima ho controllato Non sono chiuse Ok Ma non c'è Ma cosa Ok Prendiamo la bottiglia del frigorifero Senti Ancora c'è Robby Un'altra volta Ma insomma Ragdoll Unz 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 Uuuu Ma Sbatti contro il soffitto No Violenza contro i bambini Non si fa Non si Non si Fa No va bene Basta 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 Passo per un pessimo genitore No Non dico schermo Vabbè Vabbè Senti Ma è quel paese Allora Che cosa è successo No Dicevo Senti Pandonino Dove Catture Ah È entrato qui Ok Talismani E loro usi Nella cura del bambino La posso prenderlo No Quindi questa porta si è aperta Cambia il bambino Ok Ho capito Ma Ok Ok Obbio Quante botte Li sto fare Sto bambino Mazzone Facciamo finta Che non ho visto Io non ho visto nulla No Tranquillo Non ho Non ho visto nulla Va bene Tu sei bello Sei un bambino Bello E dorme Spegni le luci E chiudi la porta Sperando che non si riapra Vero E ora Cillo un attimino qui Cillo qui Cillo qui Non so perché Mi andava avanti Si sarà scontrato Con la collisione Col muro E quindi andava Per cavoli suoi Va bene Cillo out on the sofa Che succederà ora Ci richiamerà un'altra volta Perché ha paura Che piange No È finito Notte 3 Il babysitter Buonanotte Sogni d'oro Il bambino Ti mostrerò I miei sogni Che bello Ah Semplicemente Ma dai Ma dovevo chillare Fammi Fammi chillare Un attimino Scialla No Bimbo Nutelloso Ciao Che c'è Ma semplicemente così Ok Ciao Ah Trovo qualcosa da mangiare Un toast magari Nutrimi Feed the baby You monster O cosa? Dai da mangiare a bambino Monster Ma che cazzo E allora Ebbè Che cos'è qua Non si pulisce? Mamma mia Qualcosa mi dice che Se io ora entro Rimango chiuso Va bene Va bene Va bene Va bene Va bene No Ma Come è bloccata Oh Eh Incazzato Eh Che cavolo Che cavolo c'è In quel latte Che appena lo mangi Ti cacchi addosso E il latte è andato a male To Vaffan Chiappola Eh Eh Sì Vabbè Ti spezzi il collo Avanti Eh Tua madre Quella grandissima Signorina Vai a prendere Talismano Sopra in camera Sì Va bene Ma perché Inti pose Vabbè Mi insegue tipo No Non mi insegue Vabbè Meglio così Anche perché Stava fermo Quindi Non è che Mi puoi inseguire Prendi il talismano Ok Esorci Fai un esorcismo Al bambino Va bene Dove sei? Ehi Piccolo Ma che cosa è successo? L'abbiamo Scaraventato Dall'altra parte Del palmo Povero Bimbo Più che un esorcismo Era un assassino Che cacchio vuoi Ancora in t-pose Vai a calmare Bambino Un'altra volta Senti Satana Chi è? Buonanotte Un po' presto Però grazie Il bambino In giallo E finisce così Forse Ricominciandolo Va diversamente Ci provo Ci provo Dai ci provo Ho provato a finirlo In un tempo record Ci ho messo Quattro minuti Neanche Non so se mi sblocca qualcosa Per i quattro minuti Tipo se fai un tempo record Ma non credo No Devo fare ulteriori ricerche Allora A quanto pare Esiste una versione Diversa O nuova Rispetto a quella Che ho io Ho una versione vecchia Io A quanto pare Ce n'è una diversa Una nuova E niente Magari Chissà Per un'altra volta Ok Non è che questo fosse proprio Uno special natalizio Però era un video extra Così Da caricare Durante le festività E vedere come va Allora Bye bye